Il reality show di Canale 5 saluta l'altra polena. Ecco cos'è successo.Arriva un brutta notizia per tutti i telespettatori dell'Isola dei Famosi 14 Le due polene annunciate in conferenza stampa, hanno entrambe gettato la spugna. La prima è stata Francesca Cipriani che la scorsa domenica ha lasciato l'Honduras e addirittura ha dato della strega a Marina La Rosa Mentre ora lasciare il reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stato il divino Thelma Isola dei Famosi 14. Un altro addio.Cristiana Farina aveva spiegato che le prime due polene dovevano arrivare in Honduras durante la seconda puntata e vivranno con i naufraghi una settimana intera Durante la terza puntata gli stessi naufraghi tramite una votazione dovevano decidere chi far rimanere e chi far tornare a casa, mentre sbarcherà un'altra polena che vivrà insieme a loro fino alla settimana successiva Questo gioco di votazione e eliminazione arrivo di una nuova polena, durerà fino alla sesta puntata, quando, tramite il televoto, il pubblico a casa deciderà quale polena rimasta far tornare in gara come naufrago ufficiale a tutti gli effetti Con questo meccanismo arriveranno in Honduras 5 Polen e virgola.era il regolamento iniziale con l'introduzione delle polene Ma a quanto pare tutto questo è saltato.Spoiler Isola dei famosi 2019 della quarta puntata di stasera Quindi con la relativa sparizione delle polene dell'Isola dei famosi 14, scomparirà anche il divino Otelma, che ha abbandonato ufficialmente il reality show targato Magnoli a causa dei nove punti alla testa dovuti alla caduta dopo aver ricevuto la spinta da Francesca Cipriani Nella puntata odierna, Alessia Marcuzzi farà entrere in gioco il fratello minore di Belen, Jeremias Rodriguez e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Stasi Inoltre i telespettatori di Canale 5 vedranno lo sfogliarello di Yuri, che ha fatto insieme a Saraltobello, entrambi i nomineici Nella puntata odierna, a Saraltobello, entrambi i nostri spettatori di Canale 5 vedranno lo sfogliarello di Cipriani